Io partirei proprio da questa considerazione che questa è anche la vittoria soprattutto di Luciano Zavi dopo le critiche, dopo quello che si era detto in settimana, è arrivata questa prestazione maiuscola contro il miglior attacco del campionato. Noi ci tenevamo tantissimo a fare bene e a ripartire dopo la brutta prestazione offerta in casa. L'abbiamo fatto per noi soprattutto perché in campo ci vanno i ragazzi e quindi ci tenevamo a fare bene. Hanno risposto alla grande, ripeto, una vittoria che è importantissima per tutti, per i nostri tifosi che dopo tantissimi anni sono riusciti a portare a casa i tre punti. Quindi quando si vince siamo tutti contenti ma insomma un'ottima prestazione da parte della squadra. E' arrivata la vittoria con il cambio di modulo, è un caso probabilmente no? Oggi raccogliamo i tre punti con un'ottima prestazione con questo sistema di gioco. Mi piace sottolineare l'atteggiamento dei ragazzi perché è chiaro che quando tu vinci l'atteggiamento è quello di non mollare mai e di rincorrere sempre a partire dalle punte i risultati se ne avremo parecchi. Poi è chiaro un po' di solidità difensiva, oggi l'abbiamo vista, c'è stata. Quindi insomma complimenti ai ragazzi. Tra le note positive è proprio la solidità difensiva. Per la prima volta il Pescara non ha subito gol in questa stagione e non ha subito gol contro il miglior attacco del campionato. Benissimo, benissimo in tutti i reparti come atteggiamento, come voglia di sacrificarsi. È chiaro che noi abbiamo un equilibrio che ci deve contraddistinguere. Noi siamo ben consapevoli di quello che dobbiamo fare. Quindi siamo tranquilli, siamo contenti perché questi 15 giorni ci permetteranno di lavorare ancora su questo sistema di gioco. Vediamo come e quando riusciranno a fare anche altre cose. Per chiudere, Luciano, alla luce di questa vittoria sarà questo il modulo del futuro 3-5-2 o 3-5-1-1 che dir si voglia? Ma dare continuità è la cosa più importante. Abbiamo lavorato con questo sistema di gioco con una settimana perché comunque i ragazzi sono stati bravi, gli interpreti sono stati bravi a mettere in pratica tutte le cose che ci siamo detto in settimana ma l'atteggiamento e le chiacchiere si riportano al vento. Oggi è atteggiamento stato perfetto, quindi complimenti.